Le bichuon di Scra, che cosa straordinaria! Io mi sono messa a fantasticare a... Indovinate un po'. A quel che succederebbe se i gioielli delle vostre amiche si mettessero a parlare? Come avete fatto a indovinare? Mi sono messa davvero in questa fantasia e con un gusto, vi assicuro. E scommetto che avete pensato se il gioiello di una certa signora avesse parlato davanti al futuro marito si sarebbe risparmiata di passare la prima notte di nozze alla diaccio nel balcone dove il marito, deluso, l'aveva rinchiusa. Perché non ci sarebbero state le nozze? Ma sapete che siete straordinario? Indovinate davvero i miei pensieri? Mi piacerebbe indovinare tutto di voi. Provateci.